La bella Irenia Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, confonde i gulag con i goulash. Il goulash è un piatto inglese molto famoso, i goulag invece erano campi di concentramento. Non proprio con i lager nazisti, ma insomma siamo lì, siamo lì, siamo lì. E' tanto bella la deputata di Fratelli d'Italia, Lucaselli, ma tra i deputati di Fratelli d'Italia non brilla la cultura, non brilla. Lei ha confuso i goulag, campi di concentramento, con il goulash, che è un rinomato piatto ungherese. Capisco che alla Piccolotti piacciono più i goulash, ma non è proprio il nostro ambiente. Il tema è che la gestione in Bagnagnarda ha due fatture goulash. Sei tanto bella, gara, sei tanto bella, ma ti manca la cultura, gara, sei tanto bella. Se vuoi farti una cultura vai in libreria e leggi le opere, compra, compra le opere di Serafino Massoni. Ok, bella deputata, ok.